Cari amiche e cari amici, voglio dedicare questo video ai nostri giovani. Io a volte ho anche usato parole forti con i giovani, ma sto cercando semplicemente di risvegliare le loro coscienze, le nostre coscienze. Qualcuno potrebbe dirmi, ma sei un presuntuoso, chi sei tu per arrogarti questo tipo di missione? Ebbene, non sono assolutamente nessuno. Sono un uomo che da sempre ha cercato di fare qualcosa per gli altri, spesso anche sbagliando, ma sempre in buona fede. E cercherò di fare qualcosa per gli altri fino alla fine dei miei giorni, fino al mio ultimo respiro. Voglio dedicare questo video ai giovani, cominciando da una poesia stupenda, piena di speranza, anche se un po' malinconica. È una poesia di Tagore che si intitola Cogli questo piccolo fiore e recita in questo modo. Cogli questo piccolo fiore e prendilo. Non induggiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue e il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo. Bene, adesso voglio farvi vedere due esempi di giovani, di giovani dal grande cuore. Il primo è un cinese. Siamo a Pechino nel 1989, quindi la gran parte dei giovani che stanno ascoltando questo video erano piccolissimi, alcuni non erano neanche nati. Ci furono intellettuali, semplici operai, che manifestarono contro la tiranide comunista. Il 4 maggio addirittura in centomila marciarono per le strade della capitale, chiedendo più libertà. e la rivolta venne repressa in un bagno di sangue. Il 5 giugno 1989 un giovane, solo e disarmato, si mise in mezzo alla strada e arrestò i carri armati. Aveva una busta nella mano sinistra e la giacca nella mano destra. Arrivarono i carri armati, tutti in fila. Il ragazzo li fermò. Sembrò quasi volerli schiacciare lui. I carri armati provarono a girargli intorno, ma il ragazzo li bloccò più volte, mettendosi di fronte a loro, adoperando la resistenza passiva, ma veramente rischiando la vita. quelli erano giorni di bagni di sangue. Vediamolo insieme. Ecco, i carri armati che avanzano, un giovane ferma l'intera fila dei carri armati. Sono decine di carri armati, uno dietro l'altro. ma osserviamo in silenzio il coraggio di questo giovane. sale sul carri armato, dice al conduttore del carri armato smettetela di uccidere il nostro popolo. Erano giorni tesi, c'erano già state decine di morti, un bagno di sangue. coraggiosissimo. Sta rischiando molto. Niente, insiste, continua, si rimette davanti. Sta rischiando veramente moltissimo. Continuano a intimargli di levarsi. Ecco che arriva qualcuno. Mani alzate un gruppo di studenti, prende il giovane e lo porta via, salvandogli la vita. Questo invece accadeva pochissimi giorni fa. Un giovanissimo con una croce in mano cerca di fermare il corteo del gay pride, fronteggiando da solo la polizia che era avanti al corteo. Ecco, cari amiche e cari amici, questo ragazzino che ha sfidato il gay pride con una croce si chiama Jakub, ha 15 anni, è polacco e ha sfidato il corteo del gay pride con un crocifisso. La polizia poi lo ha portato via di peso e lui ha dichiarato ho chiesto una croce a un prete di una parrocchia, volevo che il mio gesto fosse visibile a quante più persone possibili, volevo che facesse riflettere e discutere, così ho camminato con una croce in mano davanti al cordone di polizia che proteggeva il pride. Successivamente mi sono seduto sul marciapiede e ho pregato in latino il salve regina. di lì a poco l'arrivo delle forze dell'ordine. I poliziotti sono arrivati da me e mi hanno chiesto di alzarmi. Ho detto che non potevo farlo perché gli attivisti del pride stavano distruggendo la mia fede cattolica e profanando la bandiera polacca ponendovi sopra un arcobaleno. Così la polizia mi ha portato via di peso. Cari giovani che seguite il decimo toro voglio concludere questo video con due citazioni. Una è presa da una poesia di John Keats un grandissimo poeta che nella poesia alla speranza scrive questa strofa introduttiva. quando solo siedo al mio focolare e odiosi pensieri mi vestono di tristezza quando anche i sogni vengono a meno all'occhio della mente e non ci son fiori per la nuda brughiera della vita tu dolce speranza profumami di magia sì portami via sulle tue ali d'argento la seconda citazione invece è brevissima è del grande William Shakespeare che scrisse ho sciupato il tempo e il tempo ora sciupa me ecco cari giovani non perdete il vostro tempo non perdete il vostro tempo non sciupate il tempo il tempo è prezioso toglietevi le cuffiette qualche volta investite le vostre energie per qualche causa nobile voi dovete farlo perché il futuro vi appartiene non sciupate il tempo e il tempo non vi sciuperà bene cari amiche e cari amici se vi è piaciuto questo video un bel pollice su e mi raccomando per riflettere insieme sempre incollati al decimo toro una buona giornata a tutti ciao